ariete la sensazione che ciò che vi sta a cuore avrà l'esito migliore accompagna la vostra giornata mentre la razionalità si acuisce e genera scenari diversi meno positivi questo dualismo dovrà essere contenuto con il senso della realtà senza cedere all'irritazione toro l'azione intellettiva si fa più profonda avete una chiara visione di come dovete agire e su cosa puntare l'attenzione anche gli incontri diventano più intensi e proficui buon momento per condurre in porto qualche trattativa e ampliare le conoscenze gemelli l'aggressività verbale che spesso utilizzate ironicamente viene smorzata oggi da una armoniosa luna che esalta le sensazioni di tolleranza e amicizia il sentimento la vostra capacità di fare molte cose contemporaneamente verrà apprezzata cancro il buon supporto di giove e venere da forma armonica alle vostre sensazioni all'espansività affettiva e agli incontri amorosi il consiglio è quello di concentrarsi sulle relazioni sentimentali di avere più dialogo con il partner o di osare di più per chi è solo leone la luna opposta causa un offuscamento della positività e fa emergere la parte meno gradevole del vostro temperamento talvolta egocentrico e accentratore non guardate dall'alto in basso chi vi circonda date la giusta valutazione anche a chi vi osteggia vergine i favori di venere e mercurio offrono più stabilità ai vostri progetti che vengono visti con chiarezza analitica e non mancano di una vena artistica spostamenti incontri e scambi di idee sono al centro dei pensieri e anche la sfera sentimentale vi appaga bilancia mettete da parte il turbinio mentale che avvertite in questo periodo e oggi ascoltate e godete gli effetti di una bella luna armonica che stuzzica le emozioni la sensibilità e qualche autogratificazione un po' di shopping mirato vi aiuterà a vedere più rosa scorpione la giornata presenta percezioni emotive appannate che causano un po' di irritabilità ma in sostanza non avete di cosa lamentarvi il cielo astrale vi sorride e apre le porte alle vostre ambizioni il settore amoroso è in questo momento esaltante sagittario sintonia tra emotività ed energia attiva che può produrre buoni risultati dal punto di vista della qualità dei rapporti con chi vi circonda la carica di marte si abbina oggi ad una sensibilità positivamente idealista e fa nascere progetti di bella umanità capricorno moderate la vostra iperattività in questo periodo un po' frenetico è bene organizzare con metodo le varie questioni soprattutto a carattere professionale e concedersi spazi di recupero psicofisico incontri spostamenti e allargamento delle conoscenze acquario l'addolcimento sentimentale del vostro intimo oggi trova poca corrispondenza nel settore amoroso che prevede qualche conflitto o un silenzio uggioso la carica vitale comunque rimane buona e vi consente di indirizzare le energie verso obiettivi più materiali pesci la vostra disponibilità ad amare si amplifica e si manifesta nel miglioramento dei rapporti con le persone che vi sono vicine ma soprattutto con il partner anche chi sta cercando l'amore deve mettersi in marcia con convinzione il cielo astrale vi protegge buone stelle